Siamo di nuovo a presentare un consorziato, quindi vuol dire che la famiglia cresce anche se le difficoltà della squadra sono su un campo, però sull'altro voi state provando comunque a consolidare. Parlaci di questo nuovo consorziato, Franco. Allora, le difficoltà della squadra cerchiamo ovviamente di risolvere perché vogliamo avere l'ambizione di migliorare tutto quello che è migliorabile. Per quanto riguarda il consorzio, questo è il quarto che ufficialmente entra dai sei che avevamo preannunciato, è un nuovo settore, il settore alimentare, è una nuova azienda, è una superstore che apre qui a Pesaro, sostenuta da un grande marchio, che è il marchio Si Contè, che ha un importante fatturato nel settore alimentare, nelle marche, anzi nelle marche, mi dicono che è il primo nel settore alimentare come quote di mercato. E questo consorziato apre un'attività che è un superstore, mi pare di 2.000 metri quadri, in via del Novecento, nella zona di Santa Veneranda. E ha scelto la VL per promuovere il proprio marchio, la propria presenza nel mercato pesarese. Siamo un'azienda marchigiana con una lunga tradizione, perché abbiamo oltre 50 anni di storia nel mondo della distribuzione alimentare. Siamo un'impresa cooperativa con circa un centinaio di punti vendita, di cui 26 superstore, collocati quasi tutti nel territorio delle marche, con una decina di punti vendita in quel lavoro stesso. Siamo riusciti ad arrivare all'apertura del nostro primo superstore a Pesaro, un traguardo per noi importante, però lo vogliamo fare con il nostro stile, cioè quello di calarci il più possibile nel territorio. E questo bagno nel territorio lo facciamo con diverse modalità, soprattutto andando a collaborare con quelle che sono le realtà più significative nel mondo dello sport, della scuola e in ogni territorio. In questo caso non potevamo esimerci dal collaborare con la VL Basket, che rappresenta il fiore all'occhiello dello sport pesarese, marchigiano e anche nazionale. Nelle nostre strutture di vendita sono sempre privilegiati soprattutto i fornitori locali. Questo è l'imprinting che abbiamo dato alla nostra azienda e che manterremo anche su questo nuovo superstore di Pesaro via del Novecento.